Una comunicazione che il Ministero della Salute avrebbe inviato alla Regione Abruzzo e a sua volta alla Regione Abruzzo a tutte le AS abruzzesi per allertare sull'arbovirosi trasmesse da zanzare, con particolare riferimento a dei virus che sono il sicuncugna, il tenche e lo zika. Io ho il dovere come consigliere regionale e come cittadino elettorale di chiedere alla Regione Abruzzo, mediante un'interrogazione regionale, cosa è stato fatto fino adesso, se ci sono stati dei casi e dei campioni già trasmessi al laboratorio regionale, al laboratorio nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità, se le ASL sono pronte per mettere in atto tutte le operazioni di precauzione e di contrasto su questi fenomeni che impattano gravemente e possono impattare sulla salute dei cittadini, soprattutto sugli immunodepressi, sui bambini e sulle persone anziane. Ecco, questo vogliamo sapere. Se le ASL sono state anche messe in condizioni di operai, io so che ci sono delle ASL in Abruzzo molto pronte, molto preparate, con degli uffici strategici che si occupano di questa, altre un po' meno che non hanno queste specificità. Quindi la Regione Abruzzo deve riferire in consiglio. Ho chiamato il Presidente della Regione, l'assessore competente a riferire in consiglio, a dirci come stiamo messi in Abruzzo, se ci dobbiamo preoccupare, se sta tutto a posto e se stanno mettendo in atto le precauzioni e gli imposti appunto dal Ministero della Salute. Perché questo dice il Ministero della Salute, non è che ha mandato solo una comunicazione, ha detto attenzione, attivatevi secondo il piano nazionale. Il piano nazionale per la soverdianza sulle arbovirose trasmesse da zanzare prevede cose specifiche. Lo stiamo facendo in Regione Abruzzo? Punto interrogativo. Mi devono rispondere. Grazie a tutti.